Aveva più volte minacciato il vicino di casa con una mazza, tentando pure di investirlo con la propria auto. Il rapporto tra questi due ripostesi di 41 e 52 anni, entrambi noti alle forze dell'ordine, non si può di certo definire di buon vicinato. Teatro di questa storia di atti persecutori via Carbonaro, nella città marinara, dove entrambi vivono con le rispettive famiglie. I due da più di un anno però andavano avanti tra minacce, accuse reciproche, dispetti e piccoli atti vandalici, tant'è che a uno dei due, il 41enne, dall'estate scorsa, gli era stato vietato di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Una misura puntualmente disattesa, secondo le indagini dei carabinieri della locale stazione, che lo hanno arrestato. L'uomo, dicevamo, non solo in più occasioni aveva minacciato la vittima con una mazza di legno, ma lo aveva anche speronato con la propria auto mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Fortunatamente la vittima non ha riportato gravi danni fisici. Il 41enne, dopo l'arresto, è stato tradotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Grazie a tutti.